Come ottenere il vostro naso per interrompere l'esecuzione con le allergie. Se siete allergici a uno di questi allergeni, probabilmente avete sviluppato un naso che cola. Può essere un dolore o semplicemente doloroso. Con cura, è possibile combattere il naso che cola, asciugare gli stamina mucose gonfie, e restituire il naso alla normalità. Una volta, hai affrontato con il naso che cola, è possibile adottare misure per proteggere se stessi da allergie in futuro. Arresto di un naso che cola. Prendere un antistaminico. Come suggerisce il nome, antistaminici impediscono al corpo di istamine che producono, che causano il naso per l'esecuzione. Gli antistaminici asciugare le membrane del muco nei vostri passaggi nasali. Si può provare antistaminici over-the-counter che contengono agenti come l'oratadina o difenidramina. Antistaminici comuni sono Allegra, Claretin, Zyrtec, Benadryl, Fenergan e Clarinex. Benadryl è probabile che a causare qualche sedazione, mentre Claretin tende a causare il minimo. Prendere le precauzioni necessarie quando si utilizza un farmaco che può causare sonnolenza. Visitare un medico. Il medico sarà in grado di prescrivere un farmaco allergia. Che sarà lui a prescrivere un antistaminico, un corticosteroide, spray nasale, varie decongestionanti, ai inibitori dei leucotrieni, o colpi di allergia. Questi scatti sono a volte raccomandati se non si può evitare dipolline o altri allergeni. L'obiettivo è di acclimatare il vostro corpo per la presenza di determinati allergeni. Ricordate che la prescrizione forza antistaminici sono davvero forti, e sono anche dotati di effetti collaterali più forti come ansia, diarrea, aumento della pressione sanguigna, e anche l'insonnia. Gli studi dimostrano che l'uso quotidiano di spray nasali corticosteroidi può essere molto efficace nel ridurre i sintomi nasali causata da allergie. Alcuni spray, come ad esempio Flonase e Nasacort, sono disponibili anche senza prescrizione medica. Non eccedere nell'uso spray nasali decongestionanti. Rimbalzo con gestione della mucosa nasale quando si tenta di smettere di usare loro, e questo può causare una dipendenza da spray nasali. Visita il tuo medico se si hanno gravi sintomi di allergia, una maggiore respiro affannoso o tosse, o se i sintomi non rispondono al trattamento. Pulire il vostro naso. Utilizzare una soluzione fisiologica spray nasale. Spray nasali saline può aiutare a mantenere le mucose umide. Sono disponibili al banco senza prescrizione medica, e funzionano sia per tenere le mucose irritanti umidi e scovare dei vostri passaggi nasali. Alcune persone preferiscono fare la propria cura salina. Cospargere un po' di sale in una pentola di cottura con una tazza di acqua, 1-2 cucchiaino di sale e un pizzico di bicarbonato di sodio. Quindi portare il vostro intruglio a ebollizione. Una volta che ha iniziato a bollire, versare in una ciotola. Mettere un asciugamano sopra la testa e mettere la vostra faccia sopra la ciotola, ma non troppo vicino o si può bruciare se stessi sul vapore. Respirare nel vapore. L'aggiunta di un po' di eucalipto olio balsamo può aiutare a lenire i seni prime. Utilizzare una pentola neti. Riempire la pentola con 240 millilitri, 8.1 fl odds, 8 fl odds, di tiepida distillata, filtrata o acqua precedentemente bollita. Cercate di evitare di usare l'acqua del rubinetto a meno che non sia stato correttamente bollito e raffreddato. Si raccomanda acqua distillata. È possibile aggiungere il proprio miscela di soluzione salino all'uso sui prodotti da banco. Inclinare la testa da un lato, mentre in piedi vicino a un lavandino. Posizionare il beccuccio del vaso in uno dei passaggi nasali e poi versare metà della soluzione, consentendo la soluzione di uscire dall'altra passaggio nasale. Ripetere con l'altra passaggio nasale. Pulire e disinfettare la pentola neti dopo ogni utilizzo. Bevi tanta acqua. Anche se il naso, probabilmente non smetterà di funzionare il secondo se mette giù il bicchiere d'acqua vuota, è importante rimanere idratati quando si verificano i sintomi di allergia. Soffia il naso più e più volte e l'assunzione di farmaci con disidratazione e effetti collaterali si seccano le membrane del muco. Bere un bicchiere e 16 onci di acqua ogni paio d'ore può aiutare a ristabilire l'equilibrio del sistema. Prova rimedi erboristici. Diversi atomi rimedi erboristici esistono che agiscono come gli antistaminici. Olio di mostarda. Ha proprietà antistaminiche. Prendere una cucchiaiata di senape e scaldarla in una padella cucina con un po' d'acqua. Quando la soluzione è abbastanza sottile per essere risucchiato in un contagocce, trasferire una piccola quantità in una delle narici. Respirate in profondità. Perché senape ha un forte profumo tale, può richiedere alcuni secondi per recuperare l'esplosione iniziale. Curcuma. Questa erba è stato a lungo apprezzato dai cultura indiana sia per le sue proprietà culinarie e medicinali. Immergere una piccola quantità di curcuma in polvere in olio di lino puro, che può essere acquistato presso i negozi più salutare. Tenere la curcuma olio di lino merlettato sopra una fonte di calore fino a quando non inizia fumante. Delicatamente inalare alcuni dei fumi. Umidificare l'aria. Acquistare un umidificatore o due. Ci sono diversi tipi tra cui scegliere. Anche se sembra controintuitivo, le allergie tendono a inibire i processi del corpo che mantengono il passaggio nasale umido. Quando si arriva prima in contatto con il trigger allergica, il corpo produce sostanze chimiche chiamate estamine che causano le mucose a gonfiarsi e si prosciugano. E poi, quando altre particelle di aria nato entrare in questo ambiente asciutto spesso le stesse particelle come polline che ha attivato la reazione allergica in primo luogo, il corpo inizia il naso che cola nel tentativo di espellerli e ristabilire l'equilibrio del sistema. Umidificatore. Distribuire l'umidità nell'aria che aiuta a mantenere passaggi nasali umido. L'umidità ideale nella vostra casa dovrebbe essere tra il 30 e il 50%. Qualsiasi inferiore sarà troppo asciutta per il vostro naso. Più in alto e la vostra camera sembrerà soffocante. Potrebbe anche allevare buffe e batteri. La maggior parte umidificatori non sono abbastanza potenti per trattare l'intera abitazione. Metterli in camera o stanze in cui si spende la maggior parte del tempo in modo da avere il massimo effetto. Quando si esce dal grado di umidità dell'ambiente, tuttavia, le membrane del muco inizieranno ad asciugare di nuovo. Prevenire futuri ronni naso. Immagine dal titolo J. Urnosea. Smettere di correre con le allergie. Scopri cosa siete allergici a. Un medico può eseguire un test di allergia, che aiuterà a restringere e anche individuare esattamente ciò che allergeni si è affetti da. A volte, ritornano inconcludenti o indicheranno diverse allergie. Le ulteriori informazioni si può raccogliere circa la vostra allergia, meglio è. Una volta che avete un'idea generale di ciò che provoca il naso che cola, è possibile iniziare evitando l'esposizione a questi allergeni. Evitare di tringer. Irritanti ambientali e allergeni come il polline, peli di animali domestici e dei capelli, polvere e fumo di sigaretta possono tutti seccare passaggi nasali e avviare il ciclo di naso che cola. Utilizzare un purificatore d'aria in casa per rimuovere queste sostanze irritanti dall'aria, ma riconoscere che è praticamente impossibile evitare tutti i tringer a meno che non si sigilla a te stesso all'interno di un contenitore a tenuta stagna. Uno degli allergeni dispersi nell'aria più comuni negli Stati Uniti è polline di ambrosia, e ci sono oltre 17 varietà. Anche se è quasi impossibile evitare l'esposizione a ragved completamente, si può imparare dove alte concentrazioni rischiano di trovarsi nel proprio ambiente locale. Evitare questi luoghi nel miglior modo possibile. Evitare di andare fuori durante l'ore di punta, come la mattina presto, e chiudere le finestre quando contapolline sono elevati. Ridurre gli acari della polvere in casa, riducendo al minimo la mucuette presenza, coperte, e animali di pellucche. Acari della polvere usa copre per materassi e cuscini. Coprire il viso. Questo è probabilmente il modo più estremo per proteggersi dagli allergeni che producono un naso che cola. Se le particelle non possono entrare nel vostro corpo, non possono causare un naso che cola. Se si va fuori durante la stagione di allergia, indossare una sciarpa sul naso e la bocca. Una maschera protettiva può fare un ancora un lavoro migliore. Lavarsi spesso le mani. Questo consentirà di evitare gli allergeni di diffondersi. Usare acqua e sapone. Ogni sapone funzionerà perché si sta solo cercando di rimuovere gli allergeni, non uccide i batteri. Scrub le mani per almeno 20 secondi. Lavare e asciugare le mani su un asciugamano pulito. Lavare il viso quando entra in contatto con gli allergeni. Se siete allergici a peli di animali domestici, lavare il viso dopo petting un cane. Se siete allergici al polline, poi lavare il viso quando si arriva al chiuso dopo essere stato all'aperto per un po' punto. Ciò contribuirà a ridurre l'esposizione agli allergeni.